Musica Migliora la situazione coronavirus in Italia, non così in Veneto e in Campania, oltre 3.000 casi in serata. De Luca inaugura la sua campagna di verità sui dati e ha anche dei medici un flop ai bandi per il loro recrutamento. Dopo il no al sito di compostaggio industriale, Castelnuovo dice no pure alla compostiera di comunità. Necessario rivedere il calendario della caccia, lo ha detto il consigliere regionale Attilio Pierro. Pestum e Velia sulle reti nazionali continua la promozione dei siti sulla Rai. Queste sono alcune delle notizie in onda nel telegiornale di oggi. Stabile il numero dei nuovi affetti da coronavirus. Nella serata di ieri veniva diramato il consueto bollettino che da oltre otto mesi accompagna gran parte dei paesi del mondo. Quello di ieri certificava che si vanno stabilizzando i nuovi contagi, segno che le misure restrittive imposte alle regioni che maggiormente stavano dimostrando inadeguatezza alla risposta della seconda fase dell'epidemia sono efficaci. I nuovi casi di covid ieri sera erano circa 29.000, sempre in crescita invece il numero dei deceduti, che non rientra purtroppo fra gli effetti positivi dell'imposizione di maggiori controlli e restrizioni. Eccezione fatta per il numero crescente dei morti, si stabilizzano pure le terapie intensive e i ricoveri ospedalieri. La Lombardia si mantiene nel range dei 5.000 casi, oltre la metà di quelli delle settimane precedenti all'istituzione della zona russa. Non così la Campania, 3.008, seconda solo ad una nuova impennata del Veneto, 3.980. Se è vero che gli effetti positivi dell'istituzione della zona russa si possono cominciare a verificare non prima delle due settimane, In Campania non si registra allo scadere dei 14 giorni una significativa contrazione dei dati, se non per quanto riguarda il numero delle terapie intensive e degli ospedalizzati. Segno che una falla che determina comunque la moltiplicazione dei contagi ci sia da qualche parte, in alcuni luoghi si sta verificando nelle residenze per anziani, in altri persino negli ospedali. Il fatto è che alla serata di ieri, oltre ai 3.000 nuovi casi, venivano registrati ulteriori 49 morti. Come ormai è consuetudine, questi non sono quelli deceduti nel giorno del bollettino, ma la somma dei soggetti che tra il 7 e il 25 di novembre non sono riusciti a superare la malattia. Questo contapostuma dei deceduti non garantisce una visione chiara ed immediata del dato mortalità quotidiano, anche se il totale dei deceduti è la palissiano, 1.483 morti, 1.000 di questi in due mesi. 8 decessi nella sola battipaglia, 19 nuovi casi e un totale di 469 persone contagiate. E questa è la situazione del più grande centro a sud dell'area industriale di Salerno, quella che porta dritto alla sua parte terminale, il Cilento, ma anche dalla quale poi si dirama la via per il Vallo di Diano. 466 positivi in totale ad Eboli, dopo ulteriori 13 casi e un deceduto. Le due città messe insieme contano oltre 900 casi, mentre nella vicina Capaccio Pestum, alle porte del Cilento, ritorna a salire il dato coronavirus, più 12 positivi, 83 quelli totali, 4 ad Agropoli, cifra tonda rispetto al numero generale dei positivi, 50. Dopo giorni di tranquillità, altro caso a Castellabate, nessuno invece a Montecorice, sempre 14 positivi, oltre 100 le persone in isolamento. Nessun altro caso nei comuni che avevano registrato ulteriori positività nei giorni scorsi, come Pollica, Casalvelino ed Ascea. Stessa cosa nel comune di Omignano e Salento, Orria e Gioi-Cilento. Qui sono risultati sinora tutti negativi i tamponi effettuati sulle persone entrate in contatto con il primo caso positivo al Covid. Nei prossimi giorni, ha fatto sapere il sindaco Maria Teresa Scarpa, verranno comunicati gli esiti degli ultimi test. Nessun aggiornamento dal comune di Vallo della Lucania, fermo al 2 di novembre, né da quello di Novivelia, mentre a Futani due tamponi hanno dato esito negativo, per cui non si registrano altri casi all'infuori dei 5 della settimana scorsa. Situazione in via di miglioramento nel Vallo di Diano, mentre nel Golfo di Policastro, dopo giorni di maggiore serenità, ritorna allo spauracchio del coronavirus. Nonostante una leggera flessione della curva dei contagi da Covid-19 nel Golfo di Policastro, la seconda ondata del virus non vuole ancora lasciare del tutto libera l'intera area. Nuove positività, infatti, si sono registrate nei giorni scorsi nei comuni di San Giovanni Appiro, che tra guarigioni e positivi conta al suo interno 10 casi, di Celle di Bulgaria, anch'esso con 10 persone positive, di Torrorsaia con 8 casi, e Sapri, che conta nuovamente 20 positivi. La città della Spigolatrice, infatti, era riuscita a scendere al di sotto delle 20 persone positive al virus, registrando un numero notevole di guariti. Nella giornata di ieri, invece, 4 nuovi casi sono stati comunicati dal sindaco Antonio Gentile nel corso del report giornaliero. Per quanto riguarda, invece, la campagna di screening di massa promossa dalla Regione Campania, Gentile ha reso noto che lo screening per l'intera comunità scolastica, basato su tamponi rapidi antigenici, sarà effettuato presso la sede usca di Caselle in Pitteri, fino a domenica 29 novembre, dalle 9 alle 13, e nel corso della giornata di sabato 28, anche dalle 16 alle 18. Una situazione che però non ha trovato affatto l'appoggio da parte del consigliere, capogruppo dell'opposizione del comune di Sapri, Giuseppe del Medico. E un grave errore fa svolgere lo screening volontario per la comunità scolastica di Sapri presso la sede usca di Caselle in Pitteri, ha dichiarato il consigliere del Medico. Una scelta incomprensibile costringere bambini, genitori, insegnanti e persone aliata a doversi spostare fuori comune. In molti rinunceranno ad effettuare il test, mettendo a rischio la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. Forse siamo ancora in tempo per individuare una soluzione più logica e intelligente, ha infine chiosato del Medico. Nella comunità di Casaletto Spartano, invece, il numero dei contagi è ancora molto alto, essendo pari a 47 positività. Un numero elevato trattandosi di un piccolo borgo dell'entroterra cilentano, che al suo interno ha avuto anche quattro decessi. Si trattava purtroppo di persone anziane, con all'attivo anche patologie pregresse, il cui quadro clinico però certamente è stato compromesso dalla contrazione del virus. L'attenzione dunque è sempre molto alta nel Golfo di Policastro, che da giorni ormai combatte contro un nemico invisibile, che spera di debellare nel più breve tempo possibile. Operazione Verità contro ogni forma di sciacallaggio. E questa è la campagna che lancia il presidente Vincenzo De Luca per contrastare quel che definisce un'aggressione senza precedenti, una costante operazione mediatica che mira a demolire il sistema sanitario campano e la governanza regionale, la sua, che in effetti non trova elementi di comunione neanche con il suo partito, il PD, che comunque ha il governo. De Luca apertamente da settimane lo critica, come fa con i ministri, anche quelli del suo partito, mentre tra i giornalisti l'unico ad essergli gradito è Fabio Fazio. I restanti sono sciacalli, ormai bersaglio quotidiano di querele e di fide. Ne sa qualcosa Bianca Berlinguer di Carta Bianca, ma anche Corrado Formigli di Piazza Pulita. Marco Travaglio, non ultimo, Massimo Giletti. L'operazione Verità questa volta nasce dalla distorsione dei dati diffusi circa l'arrivo dei medici specializzati grazie a tre bandi, uno di questi creato ad hoc per la campagna. De Luca, nei giorni scorsi, proprio in un suo comunicato ed in seguito all'ultimo bando, aveva annunciato che 165 professionalità avevano manifestato il proprio interesse. Fra questi, 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi, 80 medici di chirurgia, in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle disponibilità comunicate con la Speranza, scriveva in calcio alla sua comunicazione, che non vi fossero rinunce, così come è avvenuto nei mesi scorsi. Ma evidentemente così è stato se alla serata di ieri scriveva che contiamo ad oggi solo 10 anestesisti e qualche decina di medici non specializzati. Per il reclutamento dei medici sono stati indetti tre bandi, due nazionali, l'ultimo solo per la campagna, continuava a dire. Con il primo bando sono stati assunti 85 medici senza specializzazione. Con gli altri due su 48 anestesisti che avevano presentato la domanda, 35 hanno rinunciato. Solo 10 sono attualmente in servizio in quanto su altri tre sono in corso verifiche. Dunque, in questa operazione di verità, quel che è chiaro ora a tutti è che tutti e tre i bandi sono stati un flop. Sarebbe interessante capire perché mai dei medici che rispondono ad un bando di reclutamento per personale specializzato poi rinunciano in gran parte. In particolare, i medici anestesisti, i più richiesti. Su 48 domande, in 35 poi, hanno rinunciato al posto, cioè più del 70% di questi alla fine ha detto no. Un impianto di distribuzione di carburante non a norma è stato sequestrato nel corso della giornata di ieri a Celle di Bulgaria. Le operazioni, eseguite nel pomeriggio di ieri dal nucleo di Polizia Ambientale dell'Ufficio Circondariare Marittimo di Palinuro agli ordini del tenente di Vascello Francesca Federica del Re, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania. Nello specifico, nel corso di verifiche eseguite unitamente al personale tecnico dell'ARPAC di Salerno, è stato riscontrato che la ditta lavorava in assenza dell'autorizzazione unica ambientale ed in assenza inoltre di un sistema di trattamento depurativo delle acque di diluvamento del piazzale, il luogo dove si svolgevano le fasi di lavorazione e le attività di distribuzione del carburante. Le acque in questione, contaminate con le sostanze connesse alle attività, confluivano in un depuratore non a norma per poi essere immesse nelle aree circostanti e sul nudo terreno, un'area limitrofa al fiume Mingardo. Il tutto avveniva inoltre in area soggetta a speciale protezione perché all'interno del Parco Nazionale del Cilento vanno di Diano e Alburni. Con tale provvedimento il giudice, avallando gli esiti delle pregresse indagini svolte dal personale operante, ha ordinato il sequestro preventivo del distributore di carburanti, un'azione necessaria a sconciurare il protrarsi della condotta illecita assunta e il conseguenziale danno all'ambiente da parte dei responsabili. Continua a tenere banco lo scandalo che ha travolto due comuni cilentani, quelli di Perito e Dorria, molti suoi amministratori e funzionari pubblici. Tre giorni fa i carabinieri di Livallo della Lucania, coordinati dal loro capitano Anna Rita D'Ambrosio e su disposizione del Tribunale della città metteva a frutto quasi una dozzina di misure cautelari su altrettanti soggetti che in quattro anni di indagini erano incappati in diversi reati dalla frode sugli appalti pubblici al peculato, dalla turbativa degli incanti fino all'affidamento illecito di appalti. Nel vortice delle indagini è finito il sindaco di Orria Mauro Inverso interditto dai pubblici uffici per sei mesi stessa cosa per Callo Cirillo omologo nel comune di Perito ma al tempo dell'inizio delle indagini assessore in un'altra compagina amministrativa. Ad Orria oltre al sindaco e al responsabile dell'ufficio tecnico risultano indagati Mario Inverso Luca Di Fiore Davide De Maio titolari di tre imprese locali. L'input alle indagini è venuto dietro una segnalazione che parlava di affidamento irregolare di alcuni lavori fra i quali quello relativo all'efficientamento energetico nel comune di Perito. Per entrambi i comuni secondo quanto appurato dagli inquirenti la gestione della cosa pubblica veniva in modalità familistico clienterale con assegnazioni di incarichi e servizi ad imprese che hanno tratto profitto non da poco. I reati contestati più gravi nel comune di Orria la turbata libertà degli incanti e la scelta del contraente degli appalti con affidamenti predeterminati e specifiche imprese e indicazioni atte a condizionare le previste modalità di scelta. situazione ancora più grave nel comune di Perito dove oltre al funzionario comunale all'attuale sindaco Cirillo sono finiti al centro delle indagini Vittorio De Rosa Pasquale Russo titolare della ditta a cui sono stati affidati i lavori Gerardina Forlenza e gli amministratori Luigi Galardo e Michele Ponzo. I reati contestati andrebbero dalla frode nelle pubbliche forniture al peculato dalla falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici all'abuso d'ufficio. Per tutti è scattato il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche di impresa e interdizione per sei mesi dalle attività inerenti a tali ruoli. Il comune di Castelnuovo rinuncia alla compostiera di comunità e questo quanto stigmatizzato dalla delibera di giunta del 10 novembre scorso ad un mese esatto da un'altra rinuncia quella al sito industriale di compostaggio in progetto in un'area comunale. Il ritiro dell'istanza in conferenza di servizi proprio per mano del primo cittadino Eros Lamaida accolse tutti di sorpresa non solo i referenti regionali collegati in streaming per la seconda seduta della conferenza ma anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti che per circa due anni avevano cercato in tutti i modi di vanificare quel progetto poi ritenuto dalla stessa amministrazione non fattibile a causa di criticità tecniche ambientali emerse durante la valutazione dei rischi connessi alla realizzazione del sito la decisione del sindaco dunque in antitesi rispetto a quanto fatto e detto nei mesi precedenti venne accolta con soddisfazione e plauso da parte di chi a quel progetto si era sempre opposto forte pure del parere contrario dell'ente parco che comunque ha diritto di esprimersi anche in modo vincolante in tema di insediamenti industriali specifici nelle aree contigue come quella in oggetto eppure dopo un mese da quel no arriva un altro no che ha lasciato nuovamente interdetta ad apcilento l'associazione tutela ambientale e paesaggistica nata proprio in seguito all'idea progettuale del sito industriale di compost a Castelnuovo nella delibera di giunta infatti si legge che seppure Castelnuovo sia stato destinatario di fondi messi a disposizione per dotarsi di una compostiera di comunità così come decine di altri comuni cilentani la rifiuta per fattori ostativi all'installazione cioè non ha spazi adeguati alla messa a dimora della stessa ed inoltre i costi di gestione come quello dell'energia elettrica non sarebbero sostenibili come difficoltoso il reperimento del pellet per la produzione del compost difficoltoso la separazione dei rifiuti come lo smaltimento del percolato tutto ciò detto per rinunciare alla compostiera ecosostenibile ed ecologica immediata la risposta dell'ATAP Cilento che ha portato ad esempio realtà simili a Castelnuovo che non ha un numero elevato di abitanti poco più che 2,7 a Cuccaro Vetere primo comune in assoluto nel Cilento a dotarsi di una compostiera di comunità la raccolta funziona in modo egregio da quasi 10 anni in un locale proprio nel centro arbitato eppure quel comune conta poco più che 500 abitanti stessa cosa a Futani che gli abitanti ne ha il doppio eppure la compostiera di comunità non ha costituito un onere insostenibile quanto un'opportunità da non perdere stanziati altri 4 miliardi per il reddito di cittadinanza che in definitiva anche per lo Svimez l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno è stata una manna dal cielo per migliaia di cittadini del sud sono oltre 35.000 i campani per settori di reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno un anno segnato dalla pandemia di covid-19 molto difficile anche dal punto di vista del mercato del lavoro parliamo naturalmente di percettori occupabili cioè degli adulti tenuti a firmare un patto per il lavoro a dirlo in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro che commenta i dati elaborati dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro i numeri si riferiscono a cittadini che hanno al 31 ottobre un contratto di lavoro in corso nella provincia di Napoli invece sono quasi 19.000 questi sono dei numeri importanti soprattutto in una regione difficile come la Campania ha affermato la Di Lauro grazie alle nostre misure per il lavoro migliaia di persone e di famiglie nonostante la non collaborazione del governo regionale hanno avuto la possibilità di conquistare un reddito lo stesso Svimez ha fatto sapere che il reddito di cittadinanza ha evitato incontrollabili tensioni sociali durante il lockdown e proprio nella pandemia questo strumento sociale di sostegno al reddito ha avuto un ruolo e un'importanza incredibili offrendo un salvagente contro la provertà di ogni regione italiana da nord a sud ma anche stimolando decine di migliaia di persone nella ricerca di una nuova occupazione per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza ci sono pronti 4 miliardi in legge di bilancio ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo allo stesso modo serve un'accelerazione sul fronte delle politiche attive per le quali sono già previsti importanti investimenti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori grazie a nuove risorse che si aggiungono al fondo nuove competenze voluto dal ministero del lavoro i dati dunque sorridono alla campania ma anche all'intero territorio nazionale infatti da luglio ad ottobre i contratti di lavoro firmati da percettori del reddito di cittadinanza sono quasi raddoppiati secondo i dati ANPAL i contratti di lavoro firmati da percettori del reddito di cittadinanza prima del 31 ottobre superano quota 352 mila su scala nazionale fa sapere la deputata al fine luglio erano 196 mila nel giro di tre mesi sono quasi raddoppiati sul totale degli occupabili vediamo dunque salire al 25,7 la percentuale di chi ha trovato almeno un'occupazione a fine luglio era del 18,7 il balzo è stato addirittura del 7% con il reddito di cittadinanza e le prime azioni di potenziamento dei centri per l'impiego attraverso l'irrinunciabile contributo dei navigator abbiamo raggiunto risultati impensabili e su questa strada dobbiamo andare avanti componente della commissione agricoltura caccia e pesca della regione campania il consigliere Attilio Pierro eletto tra i banchi della Lega ha fatto nel corso della giornata di ieri un'esplicita richiesta all'assessore regionale Nicola Caputo relativamente al calendario stilato precedentemente per tutti i appassionati di caccia la richiesta del consigliere Pierro è proprio quella di prorogare il periodo destinato alla caccia oppure nel caso tutto questo non fosse possibile di prevedere quantomeno una diminuzione della tassa versata annualmente dai cacciatori per la stagione 2021-2022 ho richiesto all'assessore regionale Caputo ha dichiarato Pierro tramite un comunicato stampa di prendere in considerazione se consentito dalle vigenti leggi in materia e non appena il rischio epidemiologico lo permetta la proroga dei periodi di caccia aperti mediante la modifica della deliberazione di giunta della regione Campania numero 322 del 30 giugno redatta per l'approvazione del vigente calendario venatorio 2020-2021 al fine di recuperare le giornate di caccia non fruite a causa del blocco e cosa e cosa nota infatti continua Pierro che a seguito delle limitazioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 e la conseguente classificazione della Campania tra le zone rosse è scaturita all'impossibilità di praticare da parte di migliaia di appassionati la pratica venatoria e quanto mai in dubbio il disagio l'equivoco nei confronti di numerosi cacciatori che per poter praticare la loro passione versano anche a favore della regione Campania importanti somme di denaro Pierro inoltre ha affermato che nell'eventualità la richiesta non possa essere soddisfatta è necessaria la diminuzione dell'importo della tassa regionale valida per l'annata venatoria 2021-2022 Continua la promozione di Pestum e Veria ancora una volta la RAI è di casa nel parco archeologico diretto da Gabriel Zucktrigel Questa è una rare caraoliva sentite la sonorità della lingua sto cercando di imparare il dialetto è uno dei tratti identitari per comprendere il territorio come quel simbolo laggiù in fondo all'orizzonte è la torre di Velia per i greci Elea una delle arterie fondamentali per la cultura mediterranea la casa di Parmenide e Zenone sono due filosofi che hanno incentrato tutto il loro pensiero sull'essere in antitesi alla cultura dell'avere quanto può essere rivoluzionario e contemporaneo un pensiero così antico Atenesi avere paura della morte non significa altro che credere di sapere cose che non si sanno nessuno sa cosa sia la morte se essa non sia per l'uomo il maggiore dei beni ma gli uomini ne hanno paura come se sapessero bene che la morte è il più grande dei mali e l'essere convinti di sapere cose che non si sanno questa è la più vergognosa forma di ignoranza e non ho paura di qualcosa che potrebbe anche essere un bene pensieri di Parmenide ma anche i paradossi di Zenone sono tutti incentrati sull'idea che il cambiamento il movimento è un'illusione e dietro c'è una cosa assolutamente stabile immutevole che l'essere e questo è molto sorprendente se consideriamo il contesto la casa di Parmenide e Zenone che è Veglia è una colonia che fu fondata pochi anni prima della nascita di Parmenide intorno al 515 probabilmente e quindi è una città giovane forse non neanche una città ancora oltre alla filosofia Velia diventa anche famosa per la scuola medica fino all'età imperiale vengono qua personaggi molto importanti che cercano questo posto qua per curarsi Erodoto che era uno storico antico racconta che era un uomo di Poseidonia che indicò ai focei il luogo dove fondare la città nel cuore del Cilento sul mare un'area splendida che poi ha permesso alla città di svilupparsi in un certo modo E alcune delle tradizioni antiche portate qua dai greci penso per esempio agli oliveti nel Cilento l'olio il vino la dieta mediterranea sopravvivono e ancora oggi possiamo renderci conto che è un patrimonio vivo e attraverso iniziative come il teatro raccontare che questo non sono semplicemente delle pietre morte ma dietro c'è una storia c'è un pensiero c'è una vita quotidiana un'economia una società che vogliamo tirare fuori un'economia un'economia che è un'economia